sapete che uno dei perché più ricercati è perché dobbiamo lavorare oppure perché bisogna lavorare è curioso ma forse non più di tanto perché arriva un'età in cui una persona che ha studiato per 20 anni e comunque anche quello è una specie di lavoro si ritrova l'obbligo di lavorare altrimenti si ritrova fuori dalla società perché questa società funziona così magari in altre società c'è un altro modo di vivere ci si limita a procacciarsi il cibo e si hanno esigenze diverse e minori esistono persone che hanno rifiutato di lavorare e che hanno deciso di vivere ad esempio dai remiti come mio amico Fulgenzio ma sono veramente pochissime e comunque nella loro vita certo svolgono delle attività però è diverso il lavoro che intendono gli altri è quello obbligato quello vincolato da orari precisi prima di tutto perché altrimenti potrebbe essere una passione se uno fa un lavoro e si sveglia la mattina quando gli pare si reca dove desidera a fare quello che vuole voi lo potete considerare un lavoro è chiaramente una passione, un'attività che si svolge volentieri e che non è vincolata né da orari né da vincoli la maggior parte delle persone invece lavorano soltanto per soldi quindi danno il loro corpo quelle otto ore anche di più in cambio di un po' di danaro di soldi creati e inventati dalla banca centrale e questo è davvero incredibile se ci pensate però è questa la maggioranza delle persone quello che fa io non giudico perché evidentemente li hanno educati a questo però questa è una mentalità chiaramente deriva da una mentalità schiavistica e chi si sottopone a questo non è tanto diverso da uno schiavo se ci pensate perché comunque è obbligato quelle ore a stare in un certo posto altrimenti viene licenziato se viene licenziato viene buttato fuori dalla società perché non è in grado di costruirsi nulla di creare il cibo da solo tra l'altro non dimentichiamo che si sta andando verso un mondo in cui tutto è molto settoriale ad esempio negli Stati Uniti voi dovete immaginare e sapere che la maggior parte delle persone non sa assolutamente cucinare al massimo sanno scaldare qualcosa al microonde quindi si va su un mondo ultrasettoriale dove ognuno è bravissimo nel suo campo vive per lavorare in quel campo e poi con i soldi e guadagna fa tutto il resto grazie alla società perché da solo non riuscirebbe nemmeno a sopravvivere questo è molto pericoloso riguardo alla libertà delle persone sapete io punto a quello alla libertà e quindi il lavoro vorrebbe essere addirittura definito una forma non solo di sottomissione ma di doubt des quindi io do il mio corpo in cambio del denaro e ditemi voi a cosa somiglia non ve lo dico io perché sennò vi offendete e questo è una cosa che non sentirete molto da altre parti io ho chiesto all'intelligenza artificiale perché gli umani devono lavorare e perché gli animali in realtà sostanzialmente non lavorano perché come vi dicevo fanno le attività ma non devono rispettare degli orari non devono avere quei vincoli e soprattutto non fanno qualcosa per qualcos'altro cioè non fanno lavoro per soldi da poter spendere e quella è la differenza perché se fanno qualcosa per prodursi ad esempio vanno nel bosco mangiano dei lamponi allora cosa fanno? e loro non può essere considerato lavoro è semplicemente anche se poi i lamponi li prendono e li rigurgitano magari al cucciolo che sta nel nido come gli uccellini ad esempio non si può definire un lavoro perché è comunque una cura parentale qualcosa che si fa è un istinto naturale insomma anche chi non lavora ha interesse a riprodursi e quindi a prendersi cura dei figli che non può essere considerato un lavoro mentre l'intelligenza artificiale mi dice che queste cose sono considerabili lavoro e questo secondo me è un grave errore concettuale che però deriva dagli algoritmi con cui è stata allenata e quindi da risposte non vi aspettate risposte creative vi aspetterete avrete soltanto risposte basate su quello che di cui si è nutrito l'intelligenza artificiale quindi testi di economia che danno per scontato questo sistema quindi la cosa veramente più rivoluzionaria che potete immaginare è avere una diversa concezione di lavoro se tu ti facessero come me ad esempio ma non per vantarmi che si sveglia all'ora che vuole va nella sua terra con la bici quindi con poche esigenze economiche non devo fare benzina sto lassù mi piace ci sto bene potare gli ulivi è veramente un'arte qualcosa che mi anche mi arricchisce mentre sono lassù imparo cose sento podcast oppure semplicemente sento il rumore degli uccellini tutti quei suoni che ci sono nella natura che non potrete mai sentire in città poi dopo quando è l'ora quando non tanto mi sono stufato ma quando vedo il sole che cala in maniera molto naturale scendo giù dalla montagna e torno a casa questo lo potrete considerare lavoro io non lo considero lavoro è un'attività che si fa per passione qualcosa che spesso fanno i pensionati insomma i pensionati ritrovano non avendo più bisogno dei soldi che arrivano dal lavoro quindi dalla loro sottomissione per otto ore per ottenere uno stipendio si liberano finalmente purtroppo in tarda età sempre più tarda alle passioni e quindi il risultato è che queste persone finalmente possono essere se stesse e non è che stanno a casa a dormire perché non sarebbe una bella vita se stanno bene se hanno ancora un buon fisico vanno a fare ciò che veramente hanno sognato di fare prima quindi magari avere un orto un terreno andare a pescare andare nei boschi a cercare funghi cercare asparagi queste cose qui che sono più sono le attività che arricchiscono e divertono e che non possono essere considerate lavoro a meno che uno le faccia in maniera professionale quindi che poi gli toglie tutto il resto della vita ma se lo fanno ogni tanto oggi mi va di andare qua mi va di andare là ecco anche la costrizione che fa la differenza del lavoro se te sei costretto oggi non hai voglia e non vai a lavorare hai dei problemi e quindi sostanzialmente sei costretto a lavorare e vi dico un aneddoto io mi capita spesso durante la corte di olive siccome è un lavoro più pesante del solito e bello anche soddisfacente però a un certo punto ne soffro un po' dico sono stanco mi va di andare a cercare funghi io essendo da solo non è che devo chiedere permesso a nessuno e quello che faccio è la cosa più sensata cioè mi fermo un giorno vado a cercare funghi quindi non produco uliva raccolta ma il giorno dopo che sono stato a fare funghi mi sono riavvicinato al bosco ho ritrovato il mio equilibrio la mia produzione di olive non dico e raddoppia però aumenta molto e non è più la produzione di una persona stanca che deve farlo perché gli danno i soldi frantoi l'anno dopo e invece diventa qualcosa che una persona rifà per passione perché comunque io ho questa grande passione dell'olivicoltura questo per farvi capire quindi come diceva il saggio proverbio fai quello che ti piace e non lavorerai un giorno intero nella tua vita però è vero solo in parte perché a volte poi può venire a noi può diventare pesante come è capitato a me durante la raccolta allora se uno non ha il lavoro dipendente ma un lavoro improprio io consiglio a tutti di costruirsi dopo che ha finito di studiare come feci io di pensare qualcosa che ti piace fare e farlo non andare a cercare lavoro da altri che ti dicano quello che devi fare e questa è l'impostazione l'impostazione sbagliata e la cosa che personalmente io ho fatto e tra l'altro non ho fatto il contadino all'inizio ma ho fatto un'altra cosa facevo io tante passioni nella mia vita ad esempio mi piace anche se non sono bravo mi piace fare video li faccio video su youtube perché mi piace ma l'ho sempre fatti li facevo quando esisteva le cassette quindi non è difficile per me è una cosa che mi dà passione e non è che sono obbligato ne faccio quanto me ne pare se mi va stessa cosa a quell'epoca io volevo essere avevo passione a fare i siti web ma non per altri piaceva fare un mio sito dove raccontavo le cose che mi interessavano alla fine io ho sempre fatto le stesse cose alla fine se ci pensate ho scritto libri ma alla fine è quello che facevo sul sito raccontavo le cose che mi piacevano ad un pubblico e quindi la stessa cosa faccio ora vi racconto delle cose e voi siete interessati bene se non siete interessati io non obbligo nessuno a vedere i miei video che magari sono anche lunghi e quindi questa è l'idea di lavoro che ho io e che volevo che non tanto quelli magari sono già incancreniti nel lavoro perché poi diventa diventa qualcosa da cui non ci si libera più io conosco io conosco tanti pensionati che finito il lavoro avendo perso tutte le loro passioni idee voglia di fare di cose esterne al lavoro si ritrovano poi a dire cosa faccio e boh vado a lavorare ancora e ritornano a lavorare a fare o lo stesso lavoro o un altro lavoro e quindi finiscono a non fare altro che lavorare perché diventa una malattia un'abitudine non una vita di fuori del lavoro perché l'hanno persa negli anni e quindi l'unica cosa che gli dà uno svago magari dalla moglie in casa noiosa è scappare di casa e andare a lavorare anziché avere delle passioni belle che magari ha perso e aveva da giovane nella prossima puntata vi parlerò anche del futuro del lavoro e lì ci sarà davvero da divertirsi intanto iscriviti al canale chioccio all'eremita su youtube e arrivederci